23 appuntamenti tra teatro, musica e workshop. Non è una semplice stagione teatrale, quindi Muranum, prosa e note, il cartellone sostenuto dalla Regione Calabria in programma a Morano Calabro dal 24 ottobre 2020 al 25 aprile 2021. Un evento che porterà sul palco del Teatro Truisi gli Artetica, celebre coppia comica di Made in Sud, Cristiano Galatone, protagonista del primo cast di Notre Dame de Paris e Marco Simeoli, volto noto non solo del teatro ma anche del cinema e della tv. Siamo riusciti a fare un cartello un pochettino più di qualità grazie al finanziamento della Regione. Per questo io volevo ringraziare la dottoressa Tina Guglielmello che ha curato il progetto e la responsabile del progetto che purtroppo stasera doveva essere con noi però per motivi di salute non è potente. Quindi volevo salutare la dottoressa Tina Guglielmello che ha fatto un grande lavoro. Grazie alla Regione siamo riusciti a scritturare questi grossi nomi e soprattutto il workshop che sono due appuntamenti importanti soprattutto per quanto riguarda la nostra compagnia. Può essere un momento per imparare, per conoscere da vicino questi grandi artisti. Per la riuscita della Kermess si è predisposto l'ingresso a teatro in totale sicurezza, contingentato e con obbligo di mascherina e distanziamento. Non bisogna aver paura, il nostro ambiente è stato sanificato, verrà sanificato alla fine di ogni serata naturalmente. Sono mantenuti quelli che sono i requisiti base tra cui il distanziamento che insieme all'uso della mascherina è un importante deterrente per la diffusione del virus. Per cui ci sarà la possibilità di stare seduti in maniera distanziata, in maniera precisa, in maniera corretta. Anche l'ingresso verrà fatto in maniera scaglionata per evitare assembramenti. Per cui verranno adottate tutte quelle che sono le norme previste dai regolamenti.